Questo è il centro di Ratisbona, Regensburg. Ratisbona è la città che ci sta ospitando. Non era prevista questa tappa a Ratisbona. Guardate che bello questo centro. Ma è stata una giornata di enorme fatica, enorme sacrificio, pochi chilometri, ma tutti bagnati, tutti bagnati. Guardate Ratisbona a Regensburg e a Regensburg, 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 perché lui sul navigatore aveva messo Regensburg e stavamo andando praticamente in Polonia. Da Maredo andiamo a mangiare, no? Vedremo. Allora, questa è soltanto la prima tranche, poi vedremo le altre cose da vedere in questa Ratisbona.